Campo sportivo Manzichi Apolin, ora è 14.30, senza pubblico sugli spalti per la terza ed ultima volta. È lì che sarà di scena la capolista solitaria del campionato di eccellenza, l'USB Tonto, regina del raggruppamento sì, ma con almeno cinque rivali, se non addirittura di più, in grado di rimettere in discussione la proprietà del trono. Non mancano dunque gli avversari nella lotta per la promozione diretta in serie di ai neroverdi di Gino Zinfolino, che nel diciottissimo turno di questo campionato, o se preferite il terzo del girone di ritorno, troveranno sul proprio percorso agonistico un Barletta che ha necessità di muovere la classifica per tirarsi fuori da una situazione non disperata ma comunque complicata e tutto sommato in salute, fatta eccezione naturalmente per lo scivolone rimediato domenica scorsa a Gallipoli. Partita, insomma, tutta da seguire. Stesso discorso che riguarda il match del Città degli Ulivi tra l'Omnia e la Vigortrami. Entrambe non hanno mai vinto nel 2018. Entrambe, in particolar modo i bitontini, non possono concedersi distrazioni. Un eventuale passo falso, infatti, potrebbe risultare fatale nella rincorsa al privato in classifica. Sono due gli incroci che riguardano squadre collocate nella parte sinistra della graduatoria. L'altro lo giocheranno a Terlizzi, il sorprendente Molfetta di Pino Giusto e la vicecapolista Gallipoli. I baresi, imbattuti nel nuovo anno, potrebbero decidere in caso di vittoria di alzare finalmente la sticera delle proprie ambizioni e puntare a qualcosa di maggiormente prestigioso rispetto ad una semplice salvezza. Il Fasano, terzo in classifica, affronta il trasferta. La Radeo, sfide interne, invece, per la quarta forza del girone il Casarano contro il Vieste e per la quinta la Vetrana con l'Otranto. Il Corato deve necessariamente battere il novolo in casa per riaprire uno spiraglio in chiave play-off. L'Unione Calcio-Biceglie ritrova il suo di Liddo, ma la gara interna con i giovani del Galatina si giocherà per decisione prefettizia a porte chiuse.